Sì, devi partire da te però poi, apri il 5. Eccoci, venga attaccato, 3, 2, 1, vai, 10, destra 2, gira poco. Attenzione, tornate a sinistro, buca, stai a sinistra, subito attenzione, destra 1, buca. Sinistra 3, destra 4, sinistra 3, dosso alla casa, destra 2, meno. Subito, sinistra 2, meno, meno. Destra 3, meno, per attenzione, tornate destro, sale, 10. Non tagliate un po' l'interno che c'è qualcosa anche all'interno qui. Dosso in sinistra 3, meno, meno. Subito, sinistra 2, meno. Pagni, 10. C'era ghiaccio prima, eh? Sinistra 2, meno, meno. 20. Destra 3, meno. Chiude 2, meno. Gira, chiude. Ricordati, chiude 2, meno. Gira e poi chiude ancora. 30. Destra 2, meno. Sconnessa, lunga, 2, tempi. Attenzione, scivola, chiude, tornate destro. Sconnessa, lunga, 2, tempi. E poi scivola, chiude, tornate destro. 5. Sinistra 2, meno, meno. Chiude. 10, vai su. Attenzione, destra 3, meno. Scivola, ricorda. Subito, inversione, sinistra 1, no. Tornate destro, chiude. Chiude, eh? Sinistra 3, meno. Gira lunga. Chiude per inversione, sinistra 1. Chiude per inversione, sinistra 1. Subito, tornate destro. 5. Su, dosso, in destra 3. Sporchissima. Subito, occhio, sinistra 3. 10. Molta attenzione, destra 3, 5. Ingresso, toboga. Destra, sinistra 1. Per inversione destra. Uscita, sinistra, destra 1. Per destra 4. 10. Sinistra 3, meno. Subito, inversione, sinistra. Destra 4. In sinistra 3. È finita. Bravo. È finita. In sinistra 4. Grazie a tutti.